All'Aquila non basta la spinta dei 3.500 tifosi arrivati a gremire gli spalti del Gran Sasso a Concia. Va ai piemontesi del Chisola la gara di andata della finale degli spareggi nazionali di eccellenza. Gli uomini di Mister Meloni, che lascia in panchina Rizk, non al meglio. Si impongono per 2-0 e si mettono in forte posizione di vantaggio in vista del match di ritorno. La cronaca, primo spunto al sesto di Marca Aquilana, sugli sviluppi di un angolo battuto da destra. Brunetti ci prova in girata, ma non trova lo specchio della porta mettendo alto. Il Chisola risponde al tredicesimo ed è una risposta che fa malissimo agli uomini di Lore. Zeni approfitta di un errore di Colombatti fila tu per tu con De Chirico e lo batte con una conclusione potente e precisa. L'Aquila è contratta. La prima reazione dei padroni di casa arriva al minuto 26 ed è affidata al piazzato di Massetti che si spegne di poco sul fondo. Due giri di lancette ci prova Dercole che va via in bello stile a Dagasso ma poi strozza la conclusione tra le braccia di Marcaccini. Il Chisola regge bene l'urto e al trentatresimo torna a farsi vedere dalle parti di De Chirico. Tiro a giro di negro la sfera termina sul fondo. La prima frazione va in archivio con il tentativo di Dercole che dai 20 metri mette alto sulla traversa. Ripresa l'Aquila inizia con un altro piglio e colleziona occasioni in serie. Al quarto ci prova Di Ruocco ma il suo tiro a giro termina sul fondo. 60 secondi dopo è Dercole che scarica un fendente che scheggia all'incrocio dei pali difesi da Marcaccini. Estremo difensore del Chisola che al settimo si oppone a una conclusione violenta griffata a Shiba. Al minuto 8 ancora l'Aquila un passo dal pareggio con Dercole che manca di pochissimo e il bersaglio grosso. Nel momento migliore dei padroni di casa tuttavia come una doccia gelata arriva il raddoppio del Chisola. Dagasso approfitta di una leggerezza di tempestilli e dal cuore dell'aria trafigge De Chirico. L'Aquila prova a riorganizzarsi e a reagire. 31esimo cross insidioso di Massetti. Marcaccini smanaccia poi la retroguardia piemontese si chiude e sventa la minaccia. Due minuti dopo Shiba viene smarcato davanti a Marcaccini che si disimpegna bene parando basso ma l'azione era stata fermata per un fuorigioco del numero 9 Aquilano. Al quarantesimo il Chisola torna in proiezione offensiva con la punizione di Menon palla sul fondo. Nei 5 di recupero l'Aquila rimane in 10. Shiba già ammonito si prende il secondo cartellino giallo e finisce in anticipo sotto la doccia. L'ultimo appunto di cronaca è la punizione centrale di Massetti sventata con i pugni da Marcaccini. Poi più nulla se non il triplice fischio che mette fine alla contesa. Tra sette giorni al Dino Marola di Vinovo l'Aquila avrà bisogno di una vera e propria impresa per centrare la promozione in serie D. Oggi hanno dimostrato di essere grandi mentalmente come personalità e quindi questo è il nostro più grande successo quando si fa gli allenatori, quindi quando si ha una risposta dal proprio gruppo a livello mentale di livello. L'avevamo pensata così perché qualche video si era visto e quindi avevamo cercato di evitare il lancio incrociare sugli esterni alti perché poteva crearci qualche difficoltà. Poi abbiamo trovato il vantaggio, abbiamo lavorato sugli esterni bassi più in ampiezza già in prima battuta e i ragazzi hanno dato sacrificio. Quindi ho avuto la fortuna di poter analizzare l'Aquila con diversi video e abbiamo scelto di fare una strada e onestamente oggi credo che sia andata abbastanza bene, anche se ti ripeto qualche conclusione, qualche cosa l'abbiamo lasciata forse per emotività, perché a volte vai troppo su zona palla, poi fai casino quando devi ripartire, invece loro, diciamo per gran parte della partita abbiamo fatto una partita quasi impeccabile, sì, assolutamente. Quello che ha caratterizzato questa partita è purtroppo sono stati i due infortuni i due errori purtroppo individuali e il fatto che comunque oggi non siamo riusciti a finalizzare il predominio territoriale, soprattutto quello del secondo tempo. Quindi è chiaro che loro sono stati bravi a massimizzare le due azioni, i nostri due errori li hanno massimizzati comunque in gol, quindi per il resto hanno fatto sicuramente la loro partita, hanno fatto una buona partita di contenimento, ma purtroppo poi non è successo quello che è successo nelle ultime quattro partite che precedevano questo, cioè quattro partite e nove gol, oggi zero gol. Quindi direi che la partita è un po' questa da raccontare, certamente è una finale, vi avevo detto già ieri che comunque avremmo incontrato una squadra con delle buone individualità che poi si sono palesate e soprattutto sono stati bravi ad approfittare delle nostre indecisioni. Chiaramente senza voler colpevolizzare nessuno perché i ragazzi, vi posso assicurare, ce l'hanno messa tutta, abbiamo veramente messa tutta. Poi purtroppo ci sono delle partite in cui quello che provi non riesce e quello che hai fatto nelle altre partite non riesce. Però non ci dimentichiamo che io, e questo ve lo dico ad alta voce, io non mollo fino a quando non sono morto. C'è una partita di ritorno e ce l'andiamo a giocare alla morte. Quindi adesso non facciamo, non è finita? Se fosse finita 2 a 0 per noi avrei detto lo stesso. L'ho fatto, no? Nelle partite precedenti. Non mi sembra di aver mai cantato vittoria. Quindi è chiaro che insomma il contraccolpo in questo momento non è, si sente, però dobbiamo necessariamente già da domani rimettere in piedi il tutto per poterci andare a giocare la partita di ritorno. Ci tenevamo ed era doveroso ringraziare il pubblico e la città. Sia per quanto è successo per la presenza e la risposta che c'è stata da parte di tutta la gente per quanto riguarda la Sardegna, quindi la trasferta della Sardegna e la presenza di oggi che effettivamente, come dicevano prima, è stato un pubblico di altra categoria. Noi li vogliamo ringraziare, vogliamo ringraziare perché come squadra della gente ci siamo sentiti veramente con la gente vicina. Noi non molliamo, abbiamo vissuto altri momenti di sconforto, altri momenti duri. Abbiamo un'ultima battaglia fatta di 90 minuti. Speriamo che con lo scudo, con la spada, con la zappa, con qualunque cosa sia in nostro potere proviamo a ribaltarla. Noi ci crediamo e noi ci proviamo. Spero che anche per quest'ultima impresa la città attivi con noi perché è sempre costantemente il nostro dodicesimo uomo.